Sì, diciamo che oggi forse non è stata la nostra partita più bella, però è stata una partita piena di carattere, piena di punti di riferimento che ci servivano per vincere la partita e ce l'abbiamo fatto. Certo, il nostro obiettivo è di spingere sempre al massimo e quello ci porterà dove ci porterà, in senso che noi spingiamo, ci mettiamo tutto, mettiamo il 100% e speriamo di continuare e di arrivare più lungo possibile. Sì, ci siamo allenati sette mesi per giocare queste partite, per arrivare a poter spingere al massimo e di goderci queste partite perché sono le più belle di tutta la stagione, quindi le goderemo e come ho detto anche prima ci metteremo al massimo. Grazie per la visione!